Buongiorno, sono Giovanni Filidei, Sales Manager di SourceSense. Nel 2020 ci siamo quotati in borsa, confermando al mercato la nostra posizione di leadership nello sviluppo di applicazioni cloud native basate su tecnologie open source. Oggi vogliamo raccontarvi della nostra partnership con Atlassian nell'ambito della Digital Transformation e dell'IT Service Management. Ne parliamo con Vladimir Cavalcanti, Southern Europe, East Europe, Middle East and Africa Team Leader di Atlassian. Ciao Vladimir, Atlassian è una delle migliori realtà multinazionali sul mercato dell'IT Service Management. Qual è la vostra strategia per il futuro? Sì, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità di condividere insieme i prossimi obiettivi di Atlassian. Allora, come già saprete, la nostra azienda si sta muovendo per diventare una cloud first company nei prossimi anni. Per noi e per gran parte del mercato IT worldwide il cloud diventerà un obiettivo strategico di crescita per il futuro. La scalabilità e efficienza delle soluzioni cloud sono sotto gli occhi di tutti e per questo come Atlassian stiamo mettendo in atto grandi investimenti per rendere sempre migliori e scalabili la nostra offerta cloud. Questa offerta che attualmente include tutti i nostri prodotti, con data residence all'interno della comunità europea, per adempiere alle regolamentazioni GDPR e che permette anche un approccio incrementale a tutte le tipologie di clienti. Il supporto dei nostri partner, come SolSense, è fondamentale per l'immigrazione dei clienti che ad oggi hanno ancora licenze server oppure per l'onboarding e le scalabili nuovi clienti che approcciano o vogliono aumentare lo user tier dei prodotti Atlassian in cloud. Per qualche altra informazione potete sempre contattare i vostri riferimenti in SolSense. Grazie ancora! Grazie Vlad! Adesso con Simone Pancaldi, Channel Manager South India di Atlassian, approfondiamo il tema della nostra alleanza. Più di 15 anni di partnership, oltre 100 grandi clienti pubblici e privati in Italia e sul mercato estero su decine di aziende, soprattutto nel settore finance. Simone, cosa vi aspettate da noi per il futuro? Ciao Giovanni e buongiorno a tutti. Prima di tutto, che cosa mi aspetto da voi da SolSense? Che continuate a crescere e a supportare i vostri clienti nell'adozione e nella migrazione dei cloud di tutto quello che è il nuovo mercato Atlassian. Il supporto di un partner è fondamentale in questo processo, come ha ribadito Vlad prima. E grazie alle vostre expertise sull'adozione e sulla migrazione, che avete maturato in questi 15 anni di partnership molto importante con noi, tutte queste attività di passaggio a cloud risultano più semplici ed efficaci. Tema caldo, i prezzi. Cosa ci puoi dire della nuova policy di pricing che sarà attiva a partire dal 15 febbraio? Grazie per questa domanda Giovanni, davvero. Il 15 febbraio è stato applicato un aumento di listino sulle licenze server e data center. Se volete capire se le vostre istanze sono o saranno impattate da questo aumento, vi chiedo la cortesia di contattare i vostri riferimenti commerciali di SolSense, che vi sapranno dare tutte le informazioni e tutti chiaramente a riguardo. Questo incremento, questo aumento di prezzo è stato effettuato innanzitutto per aumentare la cloud adoption, quindi per far percepire un beneficio ancora maggiore ai nostri clienti del perché passare a cloud con Atlassian. E il secondo, non meno importante, è perché comunque Atlassian investe tanto in ambito R&D. Investiamo su nuove funzionalità, su nuove feature di prodotto e su acquisizioni di partner strategici per rendere i nostri prodotti sempre migliori. Per concludere e darvi un numero, Atlassian ogni anno investe dal 36 al 38% delle revenue mondiali in ambito R&D. Vuoi farmi un ultimo commento sulla vostra posizione rispetto ai competitor? Ottima domanda questa, davvero grazie Giovanni. Se vogliamo analizzare uno scenario un po' più ampio di mercato, vi posso citare che in alcuni report e analisi interne che sono state effettuate verso i nostri competitor, misurando in termini di spending e di funzionalità, che sono ad oggi i due driver maggiori su cui le aziende valutano l'adozione di nuovi software, come Atlassian risultiamo sempre vincenti. Inoltre vi posso aggiungere due citazioni di achievement, di riconoscimenti che ci sono stati fatti come Atlassian. Vi parlo del report 2021 di Gartner per l'IT Service Management Tools che ci vede come visioner, visioner, ma ancora più importante il report, il Forrester Wave, che ci vede come leader nell'Enterprise Service Management. Io capisco il punto di vista di voi clienti che siete con noi da diversi anni e che questo aumento di prezzi possa essere una notizia non bella, non semplice da digerire, però vi chiedo anche dove sta di riconoscere come i nostri prodotti siano sempre maturati, evoluti e abbiano inserito nuove funzionalità. Questo sia per sviluppi interni, ma anche per acquisizioni di aziende strategiche. Posso citarvi Riada che con Insight ha aggiunto delle feature molto importanti e molto apprestate nel mercato per il settore dell'asset management. Tutte, sia la parte di sviluppo che di integrazione di nuove funzionalità o di nuovi partner ha dato comunque un valore aggiunto sia ai nostri prodotti, ma soprattutto a voi che siete con noi da tanti anni e utilizzate i prodotti di Atlassian nelle vostre attenzioni da diverso tempo. Grazie mille a te Simone e soprattutto ad Atlassian che ci dà la possibilità di crescere insieme e portare le sue soluzioni vincenti sul mercato italiano. Grazie a te Giovanni, grazie a tutto il team di Source per l'invito e l'opportunità di condividere con voi queste informazioni e mi raccomando ci vediamo sul cloud.